Salve, oggi è il giovedì santo del 2019. E questo giorno ovviamente a me come a molti altri fa pensare all'istituzione dell'Eucaristia. San Leone Magno diceva che con l'Eucaristia il cristiano è veramente quello che mangia, perché appunto l'Eucaristia ci forma anche come cristiani. Santa Teresa del Bambini Gesù diceva che se noi capissimo veramente il valore dell'Eucaristia, l'accesso nelle chiese dovrebbe essere regolato dalle forze dell'ordine. Certamente osservando quello che accade in molte nostre chiese sembra di poter dire che non capiamo più il valore e l'importanza del sacramento dell'Eucaristia. Basta osservare per esempio il momento della consagrazione in tantissime messe dove tanta gente non si inginocchia più, addirittura alcuni si siedono, alcuni stanno in piedi, alcuni si inginocchiano. Cioè è veramente il caos totale. Io racconto sempre della mia esperienza a Hong Kong, quando vado a Hong Kong, dove fra tutti i difetti che poi si possono trovare su quello che accade lì, però quando vado alla messa, che di solito è abbastanza frequentata, tutti si inginocchiano, dai bambini agli anziani. Io penso che non sia un fatto che loro siano più devoti di noi, ma è veramente un fatto di educazione liturgica. Questa formazione liturgica che era stata tanto sbandierata dopo il concilio, finalmente possiamo dare una formazione liturgica così che tutti veramente partecipano alla liturgia, come se quelli che andavano alla messa precedente non partecipavano. Allora non riesco a capire come mai si sono fatti tanti santi con quella messa. Eppure questa famosa formazione liturgica, dopo più di 50 anni, sembra proprio non aver funzionato bene. Un elemento importante per capire questo è proprio vedere come l'Eucaristia non è rispettata così come sarebbe giusto. Quindi cerchiamo ancora di capire l'importanza di questo sacramento per la nostra vita, l'importanza della partecipazione a questo sacramento e anche il rispetto che dobbiamo a questo sacramento. Non deve essere qualcosa che riceviamo in tutte le condizioni, seppure non sentiamo di avere quello stato di grazia necessario per poterlo ricevere. Cerchiamo veramente di riscoprire questo sacramento dell'Eucaristia in modo anche di riscoprire quello che noi siamo come cristiani. Perché l'essere cristiano, come diceva Leone Magno, è qualcosa che ci dà una grande dignità. Riconosci o cristiano la tua dignità? La tua dignità proprio perché è cristiano. Speriamo di poter riflettere su questi temi in questo giorno santo. Speriamo di poter riflettere su questi temi in questo caso.